ciao a tutti bella raga oggi siamo insieme a mio amico mattia ciao e allora oggi abbiamo fatto il fuocherello da solo da soli io e matti ci cuoceremo la carne, ci cuoceremo la carne da soli all'inizio ci insegniamo allora ora io ho scritto una targa per il posto che abbiamo fatto che è questa ora ragazzi ve la faccio vedere eccola qui e la metteremo qua non lo so dove la metteremo e ora quando cuociamo la carne bisogna aspettare che brucia tutto per farla abbraccia ok ragazzi siamo qui pronti con le carni e io ho un po' freddo alle ghe ok ragazzi no aspetta eccoci basta che non sia caduta nella cacca vai disimpetala vai con la fiamma ok lascia 2 secondi ecco col fuoco noi sterilizziamo le posate che sono cadute come i primitivi ok ragazzi ora metteremo sulla carne vogliono farla hanno scelta loro la provano loro pilata con le mani va che meglio tanto non moriamo una l'ultima voglio metterla io sul mattone non cuoce piglala con le mani Mattia la mirata a me ti fa schifo no che schifo perché se no va in terra con la prima l'hai messa troppo dove la metti qua? aspetta perché? l'hai messa troppo al centro vai buttare poi dopo tieni Mattia mettila te mettila te metto io se ce la fai a metterla in quel buchetto qui sarebbe perfetto prova dai metterla lì poi quando la giriamo perfetto bravissimo lui fa il piromane fagli vedere il ah no vabbè stai prendendo ne abbiamo fatto un'altra perché poi ragazzi c'era andata la cera sopra qua c'è uguale però è meglio sì allora prima avete visto anche il capriolo io sentito rumore e mi varo un per tutte le piante si diverte come consumare le candele c'è che fra poco con la guerra ci staccheranno la luce ecco e noi consumiamo consumiamo la candela così ce ne ricorderemo allora Mattia lì la carne come la volete al sangue? io così e così a me piace cotta normale è troppo cotta né troppo al sangue normale è una via di mezzo leggermente al sangue se il filo è uguale possiamo mangiare qui noi? no perché? perché viene freddo poi c'è la torta derby e poi la torta cosa? la tua mamma ha fatto una torta dolce è volata la teglia abbiamo finito di mangiare e la carne era ottima si vede che l'abbiamo cotta noi due anche perché mi sa che se la quacevamo lui o gli altri non veniva così vabbè niente ragazzi se vi è piaciuto questo video mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like ciao ciao ciao